Quella torre sta facendo impazzire dispositivi elettronici, perciò ho anche il tuo Omnitrix. Quindi attaccare quei due strani tipi? Ma come? Non so, forse dovresti... Usare il vecchio cottero come una lampa? No! Ricevuto forte il chiaro, boss! No, no, stai attento! Certo, sì, la solita storia. Non mi ascolta mai, che sbruffone. Ottima idea. Dovrei ascoltare Gwen più spesso. Progetterai tu le tute la prossima volta. Lo farò e non userò questi materiali così scadenti. Questo è quello che vi aspetta. E tu saresti? Rotolone. Ah, io credo che sia quel ragazzino. Oh, è questo che fa il tuo giocattolino. Non è un giocattolo. Beh, tu lo sei di sicuro. Ok, pianoci. Spero che tu sia riuscito a sistemare il circuito questa volta. Certo, funzionerà bene. In tal caso, darò a te l'onore. Congratulazioni, questa volta sei riuscito a non fare danni. Questi ragazzi discutono più di me e Gwen. Oh, cavolo! Devo sbarazzarmi di questi due in qualche modo. Oggi ne siamo. Mi concedi, caro fratello? Vi arrendete? Tu sei una bomba, ma quello potrebbe esserne una molto più grande. Oh, accident! Ben, non riesco a vederlo. Stai bene? Un attimo! Oh, sì! Le cose si stanno facendo acquose. Ti sei già trasformato? Che velocità! Ben, quel campo magnetico va spento. Devi subito invertire la polarità. Ah, Gwen ha ragione. Mi sembra davvero un'ottima idea. E cerca di non esagerare con le fiamme. Ci troviamo su una lastra di ghiaccio. Bel discorso, ragazzi. Uh, per la miseria. Eravamo d'accordo che io avrei governato sull'emisfero nord. Ho cambiato idea. Tu non hai niente da cambiare. Quindi un approccio meno diretto, eh? Quei niente. Non ci siamo. No, no. Gwen ha detto qualcosa sull'invertire un magnete qualcosa scambiando un positivo qualcosa con un negativo qualcosa. O quello era un film. Eh, comunque non importa. È il miglior piano che ho. Wow, meglio del previsto. L'immersione del magnetismo è troppo forte. Questo è l'exatto opposto del nostro brillante piano. Ancora una volta, tu sei riuscito a mandare all'aria i nostri piani. Tu sei un fratello orribile. Ottimo lavoro. Ben, nonno è riuscito a farlo funzionare. D'accordo, scusami. Ho dubitato di te. Il polo nord si è rivelato divertente. Suppongo di sì, ma non ho avuto i miei lottatori di sumo. Ora scopriremo chi è il corridore più veloce. Lo sanno tutti che sono io il più veloce. Devo essere solo più veloce di te! Ciao!